Inaugura sabato Sarzana a tavola, una manifestazione che si coniuga ad altre per un periodo in cui Sarzana è ricca di attrattiva nonostante la piena estate. Sì, è un appuntamento consolidato, siamo alla 26esima edizione e è per noi un piacere averla riconfermata e inauguriamo proprio insieme ad altre manifestazioni. Ormai è diventata una nostra tradizione, quindi si inaugura la soffitta nella strada che parte anche lei sabato 6 agosto alle 18, la Calandrignana e Sarzana a tavola. Quindi insomma queste tre manifestazioni partono insieme e arricchiscono la proposta sul nostro territorio appunto. Un appuntamento che si consolida, 26esima edizione, ma soprattutto un percorso verso la valorizzazione della qualità dei prodotti enogastronomici locali. Sì, Sarzana a tavola che è giunta alla sua 26esima edizione ha come scopo proprio quello di promuovere i prodotti del territorio, dell'enogastronomia in particolare. Questo viene fatto dalle 13 aziende che espongono Sarzana a tavola anche quest'anno ed è stato fatto negli anni dalle oltre 120 aziende che ci sono alternate appunto a Sarzana a tavola. Per noi e non solo per noi è fondamentale proporre i prodotti del territorio, proporre i prodotti della tradizione sarzanese e di tutta la vallata per far conoscere meglio il territorio ai sarzanesi, agli abitanti della nostra vallata ma soprattutto ai turisti che in questo periodo sono numerosi e che devono portare a casa un ricordo di Sarzana e della vallata del Magra importante. Piazza Matteotti fa da cornice a questa manifestazione ma appunto come si svolge? Gli orari sono dalle 19 alle 24, dopo le 24 non è più possibile somministrare alimenti o bevande e all'interno della manifestazione c'è appunto l'enoteca che è quella che prevalentemente serve il bere diciamo così anche perché giustamente porta in esposizione i prodotti vinicoli del territorio. I prodotti che vengono prevalentemente serviti sono appunto come ci piace sottolineare sono i prodotti relativi alla nostra gastronomia, la stragrande maggioranza dei quali sono realizzati con materie prime che vengono dal territorio, dalla filiera del territorio e questa è una cosa a cui noi teniamo molto. Dopodiché si passa naturalmente dei classici testaroi ai ravioli, agli sgabei, al perché no ai piatti di pesce e poi naturalmente per quello che riguarda i dolci la spongata che la fa da padrona come regina un po' dei dolci di Sarzana.